Partiranno entro la primavera i lavori di messa in sicurezza delle sponde del fiume Picentino nei pressi del centro abitato di Ponte Gagnano-Faiano. Ad annunciarlo l'assessore ai lavori pubblici Raffaele Sica e l'assessore alle politiche ambientali Carmine Spina che ai nostri microfoni spiegano nel dettaglio il progetto predisposto dall'amministrazione comunale. Questo possiamo dire che è un primo intervento che mira sicuramente a un risanamento idrogeologico delle sponde del fiume Picentino senza andare a intaccare quella che è la situazione dell'alveo. Noi entro la fine del 2018 abbiamo appostato queste somme che si sono ritenute necessarie e abbiamo dato priorità a questo intervento vista anche la situazione in cui versa l'alveo del fiume. Principalmente si punterà a risanare le sponde con una prima fase, una progettazione preliminare e a breve arriveremo alla fase delle autorizzazioni da parte degli enti preposti, quindi il genio civile e il bacino. Un intervento che si presume verrà effettuato durante il periodo primaveri e estivo anche per evitare le condizioni meteorologiche avverse. Volevo andare più nel dettaglio, che cosa prevede il progetto? Il progetto prevede il taglio di tutte le piante e gli infestanti che insistono sulle sponde e quindi sono quelle che possono creare pericolo e desondazioni, quindi occlusioni nei punti più critici che sono il ponte sulla strada di 18 e il ponte di Roma e le ferrovie, anche se nel frattempo le ferrovie già stanno facendo un'opera di risanamento del ponte strutturale delle ferrovie e quindi ha già attuato una prima pulizia in quella zona lì. Con questo progetto noi naturalmente poniamo l'attenzione e direi anche cominciamo a ridare dignità a quello che può sembrare un semplice corso d'acqua, ma invece non lo è, nel senso che il corso d'acqua, il fiume, soprattutto il fiume Vicentino, ma anche gli altri fiumi rappresentano anche un po' la storia del nostro territorio. Noi iniziamo a risanare dal punto di vista ambientale questo corso d'acqua, che è quello là che è più caro ai ponte cagnanesi, insomma al nostro territorio, e cercheremo quindi di risanarlo dal punto di vista ambientale e quindi poi i seguenti step, le altre situazioni sarebbero quelle poi di andare a ricercare quelle che sono naturalmente eventuali scariche abusive all'interno nel corso del fiume, proprio per avere un'idea che quel fiume possa essere, da lì possa rinascere la voglia e la percezione di un nuovo territorio. più attento a quelli che sono i valori ambientali.